stazione di peschiera del garda sta arrivando il treno in transito noi alle ore 8 e 48 prendiamo il treno che porterà a milano no si chiama piaccia di sabato 19 alle ore 6 e 30 di domenica 20 dicembre per lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di romano e fresca i treni regionali delle relazioni milano bergamo via freviglio milano brescia perona e brescia bergamo subiranno cancellazioni e sostituzioni con autobus che sono in treno in transito arriva con il freccia rossa arriverà 9708 che porterà a milano binario 3 sono le ore 8 e 26 10 binario 1 e 2 il 2 che passerà con il treno no no milano centrale al regio express arriverà dal 2002 del 8 e 59 arriverà con il treno in transito arriverà con vediamo che cosa vedete italo arriverà tra venezio santa lucia 21 34 bergamo napoli centrale 17 52 per una porta nuova voloni centrale alta velocità firenze santa mariana roma tiburtina e roma tiburtina e roma termini stazione di peschie maracquan tu ci vuole dice l'uscita e qua c'è il binario 1 e 2 per portare al binario 1 e qua c'è un'altra qui aspetta andare sono le 8 e 28 bella sto facendo così attenzione bella parla transito ok buon Arriverà con il treno Una freccia rossa Arriverà tra Milano e Centrale Ok sono le 8.32 Aspettiamo quando arrivo a 48 L'ho preso questo biglietto Carrozza 2 Posto 15 A L'oreo 8.48 Vedete? Lo vedete? Per Milano e Centrale L'oreo 8 Incorniamo ai viaggiatori che il treno alta Velocità a freccia rossa 97.08 Di treno Italia L'oreo 8.48 Per Milano e Centrale Oggi ferma anche a Desenzano Belgarda Sirpione Vedete? Questi binari storti sono Attenzione Treno in transito al binario 1 Allontanarsi dalla linea gialla Arriverà con il treno in transito sul binario 1 Qui Attenzione Rispettiamo il distanziamento sociale E ricordiamo l'utilizzo della mascherina Grazie per la collaborazione Vi ricordi con professori di scienza Ieri sono andato a scuola Visto che i binari sono storte Ho già perso contatto Attenzione Treno in transito al binario 1 Allontanarsi dalla linea gialla Informiamo ai viaggiatori che il treno alta Velocità a freccia rossa 97.08 Di treno Italia L'oreo 8.48 Per Milano Centrale Oggi ferma anche a Desenzano Belgarda Sirpione Ferma anche a Desenzano Il treno alta velocità a freccia rossa 97.08 Di treno Italia Proveniente da Venezia Santa Lucia E diretto a Milano Centrale Delle ore 8 al 48 E in arrivo al binario 3 Attenzione Allontanarsi dalla linea gialla Ferma a Brescia Oggi ferma anche a Desenzano Delgarda Sirpione Carrozza dalla 1 alla 4 In testa treno Dalla 5 alla 7 Centro treno Dalla 8 alla 11 Coda treno Dalla 5 alla 11 And in the middle of the train Dalla 5 alla 11 In the rear of the train La rossa 97.08 Di treno Italia Proveniente da Venezia Santa Lucia E diretto a Milano Centrale Delle ore 8 al 48 E in arrivo al binario 3 Attenzione Allontanarsi dalla linea gialla Ferma a Brescia Oggi ferma anche a Desenzano Delgarda Sirpione Carrozza dalla 1 alla 4 In testa treno Dalla 5 alla 7 Centro treno Dalla 8 alla 11 Coda treno I livelli E executive business Sono in testa Al 3 Su questo treno Servizio di ristrazione Carrazza 2 Carrazza 2 Eccolo sta arrivando Freccia rossa Brescia rossa Brescia rossa Brescia rossa Brescia rossa Brescia rossa il mio biglietto questo è tuo e questo è mio dov'è il mio posto? 16 15 mi scusi signora dov'è il 15A? 15A sarebbe là però forse vi conviene mettervi su questi due grazie mille mi scusi signora hai il kit del covid? si adesso passano su si ok grazie mille bellissima questa freccia rossa è bellissima ok abbiamo preso i biglietti sono passati l'abbiamo preso business grazie business quelli sono a pelle è bellissimo ciao 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 vi hai distrutto stare così attaccati alle porte? no perché questa non si chiude sennò se volete vi da ho i saluti liberi preferisci stare di là nei saluti più? si ciao ciao peschero ciao peschero ciao peschero ciao saluti wow è bellissima ci vediamo così ciao 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 ciao